Come ha fatto il fagiolo di Italia? Per le quattro varietà coltivate alla Mon di fagiolo. La Mon è un paese in provincia di Belluno che confina con la provincia di Trento. Noi abbiamo partecipato direttamente ai lavori di recupero e caratterizzazione di questi fagioli, nonché anche abbiamo introdotto una parte di breeding, cioè di miglioramento genetico, nel fagiolo di Saluggia. Per ritornare alla forma antica del fagiolo di cui gli agricoltori avevano memoria. Abbiamo fatto un lunghissimo lavoro iniziato nel 2005 e pensiamo di terminarlo nel 2016. E poi alla Mon, che è in provincia di Belluno, che confina con la provincia di Trento, lì abbiamo fatto un lavoro soprattutto di recupero varietale e risanamento da BCMV, che è il virus che colpisce di più il fagiolo. Questo virus è pericoloso perché si trasmette per seme e è pericolosissimo, quindi abbiamo messo in piedi tutta una procedura per coltivare questo fagiolo in modo sano e arrivare a moltiplicarlo in modo sano per poter cedere poi il seme agli agricoltori che lo coltivano per il mercato.